Mi scusi, signora, non si possono superare i 140 chili. Io non li supero i 140 chili, arrivo sieno alla metà, come la lady. È divertentissimo! Che cos'è? È raspiuso? Non so se ti faccio vedere io come si scivola. Sto arrivando, puttana là! Santa pupa dei misteri! Non è che sto! Sto! Non so se ti faccio vedere io come la mia! C'è sempre che spugno la mia! Ehi! E go, Mary! Grazie a tutti